Adoro i miei genitori. Mamma è un ingegnere informatico. Sarà bellissimo! La famiglia riunita! Papà, un regista di documentari. Cos'è quello? Ricordi quel documentario sui manufatti antichi che ho realizzato? Papà, ti comporti in modo strano! Da loro io e le mie sorelle abbiamo ricevuto tanti preziosi insegnamenti. Ve l'ho insegnato io! Atterraggio perfetto! Visto? Possiamo divertirci anche senza i lussi di casa come i dispositivi elettronici. Hai detto dispositivi elettronici? Oh, giusto, sì. Sono i migliori. Cosa mi sono perso di figo e fashion? Figation? Figo e fashion insieme. Me lo sono appena inventato. Scoprite di più sui genitori, le sorelle e tutti gli amici di Barbie con Barbie Dreamhouse Adventures.